Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, domenica 27 agosto. Vediamo quali sono i temi della giornata. Intanto il problema delle occupazioni e degli eventuali sgomberi continua ad andare avanti, perché i primi giorni siamo stati impressionati da quelle immagini, non tanto io, ma sono stati impressionati i giornali da quelle immagini e sulla scorta di quelle impressioni poi sono state fatte molti passi indietro, cioè si è detto che c'erano stati degli scontri, in realtà oggi il messaggero che secondo me fa il servizio migliore, il giornale di Roma raccontando perché conosce bene la vicenda delle occupazioni romani, oltre che col fondo di Gervasoni in cui dice guardate che se c'è un comportamento che è stato ben tenuto è stato quello della polizia in quel caso che prima la questura ha chiesto di sgomberare, poi ha cercato di parlarci, poi alla fine ha proceduto allo sgombero, però ha messo in piedi tutti gli strumenti per poter fare una cosa pacifica come alla fine poi si è rivelata, non è che ci sono stati troppi gli scontri superiori a quello che si poteva immaginare, invece qua è ad evocare gli scontri che peraltro non ci sono stati e tutto questo perché cosa? Per fare una direttiva che oggi Sallusti rimprovera a Minniti, riprovera benevolmente a Minniti per rendere gli scontri, per rendere gli sgomberi insomma un po' più ragionati. Io oggi mi sono divertito, si fa per dire, a leggere il pezzo del Corriere della Sera per capire che cosa cambierà su questo nuovo regolamento per gli sgomberi, posto che gli sgomberi non se ne fanno praticamente nulla. Io non riesco a capire come si possono tollerare i 100 palazzi occupati, ma che è niente perché non sono 100 i palazzi occupati, viviamo di occupazioni in questo paese abusive da parte di centri sociali, da parte di immigrati o anche occupazioni abusive di persone che hanno preso i nostri appartamenti e non li mollano più e si tratta di migliaia di casi, ma la cultura da cui discende è sempre la medesima e è la medesima che viene perpetrata dai giornalisti che sembra vivere in un loro mondo, forse quella delle casette affittate a loro dall'ordine dei giornalisti, non lo so, dall'Ingi. Il mondo è quello che oggi cerco di capire leggendo, il Viminale farà requisire gli edifici pubblici vuoti se i comuni non si muovono. E già qua mi viene un dubbio, ma scusatemi, se il Viminale dice io non ti sgombero se non c'è un edificio alternativo e poi requisisco gli edifici pubblici vuoti, sembra sulla carta una cosa geniale, ma secondo voi io posso requisire un edificio e il giorno dopo mandarci qualcuno, magari sono uffici, scuole, caserme e non avremo sempre le prefiche del politicamente corretto che ci dicono che inumane. Oggi sul Messaggero vi rendete conto? Cento degli sgomberati di piazza Curtatone a Roma che occupavano abusivamente quella casa che era di un fondo pensione, quindi in ultima analisi, come ha fatto capire Becchis sul Libero nei giorni scorsi, sono i soldi non dei contribuenti ma dei pensionati che vengono compromessi perché sono un paio di milioni all'anno, gli paghiamo anche le bollette all'occupazione, cioè non solo occupano il palazzo ma ci tocca pagare l'Imu e le bollette a quelli che ci occupano il palazzo e questo avviene non soltanto nel caso di Bia Curtatone ma in tutti i casi di occupazione. Bene, allora io vi chiedo, secondo voi in questo scenario il Campidoglio gli affida cento nuovi alloggi e loro dicono no, non ci piacciono, no non ci piacciono i cento nuovi alloggi, io non lo so se questa è una cosa possibile che tu a un eritreo che ha occupato un palazzo lo sgomberi, gli offri un altro alloggio e quelli ti dicono no, non è possibile. Vabbè, detto questo vi leggo il pezzo del Corriere di Oggi, pagina 3, la pagina più importante del giornale. Intanto scopro che è una regola pensata per le grandi città, soprattutto dove l'emergenza alloggiativa è stanziale, ma come cacchio scrive? L'emergenza alloggiativa è stanziale? Vabbè, sarà pure stanziale, ci sarà pure un'emergenza alloggiativa, ma riguarda solo gli eritrei? Riguarda solo gli immigrati? Qualche italiano non ha questa emergenza alloggiativa? Il provvedimento, scrive sempre il giornalista, ideato per superare l'ostacolo dei sindaci inerti, o peggio, politicamente ostili. Io non ci ho capito nulla, forse la giornalista, forse l'ostacolo, i sindaci politicamente ostili a concedere degli alloggi. Poi dopo capisco tutto. Perché capisco tutto? Una volta emanata la direttiva, cioè domani, i prefetti sono chiamati a realizzare una fotografia aggiornata della situazione, una fotografia aggiornata della situazione, non una fotografia passata della situazione, una fotografia aggiornata della situazione. Benissimo, allora i prefetti devono fare una fotografia aggiornata della situazione, molto bene, quindi non una fotografia passata. E dopo che hanno fatto questa fotografia aggiornata della situazione, devono convocare tavoli per la sicurezza. Allora io mi chiedo, ma c'è uno che si chiama Tavoli? Ci sono dei signori che si chiama? Io lo adoro, la convocazione dei tavoli, la convocazione dei tavoli. Voi dite che magari è voce dal Senfuggita? No, perché poi ieri si è svolto il corteo dei movimenti per il diritto alla casa, al quale erano presenti anche i profughi sgomberati da piazza indipendenza, siamo in 5.000, ma adesso non so perché siamo in 5.000, forse tutti non in 5.000. Hanno detto gli organizzatori, chiedendo la convocazione di un tavolo. Allora qua bisogna convocare i tavoli, abbiamo capito che la direttiva fatta da Milniti è per convocare un tavolo. Tavolo, vieni qua che ti convochiamo. Bene, a parte la cagata che sempre si deve convocare un tavolo per non decidere nulla, ma è chiaro che non si convoca un tavolo, si convocano delle persone che si siedono intorno a un tavolo, ma adesso per noi è diventata l'emergenza, l'oggettiva e la convocazione dei tavoli. Ormai parliamo come burocrati, scriviamo come burocrati e pensiamo come burocrati, per fortuna che Gervasoni oggi sul messaggero ci spiega che tutto questo non ha alcun senso e soprattutto il messaggero ci spiega che qua non c'è da convocare tavoli, c'è da prendere 100 persone a cui è stato detto ti diamo quell'alloggio e metterle in quell'alloggio e se non vogliono quell'alloggio gli si dice cari miei, ma che volete oltre a quello che vi abbiamo offerto. Sulla questione, vi segnalo la solita Bonino che l'emergenza alloggettiva pensa che sia risolvibile con una battuta, cioè che Salvini e Di Maio sono imprenditori dell'intolleranza, non hanno mai ragione sull'NG, tutti tutti torti, sempre torto, mentre la Bonino c'è sempre ragione. Belpietro nota sulla verità una cosa che mi diverte anche a me moltissimo e sul fatto si fa per dire che la polizia è sempre in colpa e comunque la polizia non conta mai nulla e quindi vi è un silenzio totale nei confronti della polizia quando viene ferita, avvenire c'è la sua solita posizione, ma d'altronde fa il suo mestiere e cioè che è inaccettabile lo sgombero perché violenze inaccettabili, ecco la violenza inaccettabile è quella degli eritrei che hanno subito dai poliziotti e non in quella dei rigittimi proprietari che hanno subito l'abuso della propria proprietà. Poi direi migranti, il racket delle occupazioni che è un'altra grande storia che ha il messaggero che è il giornale che oggi forse è più interessante in cui si capisce come in realtà questi poveri di tre in realtà fossero vittime loro stessi complici di un racket all'interno di quel palazzo che veniva abusivamente occupato e sulla quale si passavano degli affitti in nero tra di loro. Giorno in cui oggi invece per cambiare capitolo Mario Sensini ci ricorda, mi sembra che se lui o Gerevini sul Corriere della Sera è un pezzo molto interessante sul fatto che è Airbnb, mentre c'è l'emergenza abitativa e gli eritrei facevano i loro stipendietti, non possono essere sgomberati, c'è l'emergenza alloggiativa, bisogna convocare i tavoli, intanto il fisco se avete una casa in affitto con Airbnb, ma non sto parlando di miliardari, sto parlando di quelli che vogliono arrotondare alla fine del mese e gli fanno un mazzo così, fanno un mazzo così agli affittuari, fanno un mazzo così a chi li affitta, fanno un mazzo così se non segui tutte le regole che sono state stabilite anche per loro, che forse è anche giusto perché non si vede perché non debbano pagare le tasse loro come gli altri. Airbnb in Italia ha affittato appartamenti per 620 milioni di euro, le commissioni si calcolano ad essere in 65 milioni di euro, secondo il Corriere della Sera, e le tasse che loro hanno pagato in Italia, la Airbnb SRL, 45 mila euro, obiettivamente forse un po' di ragionamento, non avrà la stabile organizzazione in Italia Airbnb perché c'ha due o tre persone che ci lavorano, viene fatto tutto da server chissà dove, paga le tasse in Irlanda, tasse minime, però forse un ragionamento sul fatto che questo intermediario immobiliare paghi in Italia 45 mila euro di tasse gestendo 620 milioni di affitti, forse bisognerebbe farlo, posto che se cumuli le tasse che paghiamo noi invece quando affittiamo con Airbnb da settembre sarà il 20% di questi 620 milioni che entreranno quindi nelle casse dello Stato, quindi 120 milioni le pagano gli affittuari, 45 mila euro lo paga l'intermediario nonostante faccia ricavi per 60 milioni, qualcosa non funziona. Mi ha colpito oggi nel pezzo di travaglio che prende in giro, io lo capisco, l'idea che Pisapia faccia l'accordo con Alfano in Sicilia, la Sicilia è diventata il centro del mondo perché ci sono le elezioni 5 novembre quindi è importante vedere cosa succede in Sicilia, ma la cosa che mi diverte è che il fatto prende in giro Pisapia perché dice mai con Alfano e poi si troverà probabilmente, probabilmente aggiungo io, loro lo danno per certo con Alfano perché il PD si è alleato con Alfano in Sicilia e quindi prende in giro, ma come? Avevi detto che non avresti mai fatto l'alleanza con Alfano e adesso la fai. Ma nel pezzo che scrive travaglio dice Alleanza detta anche, questa alleanza tra PD e NCD, alleanza detta anche concorso esterno. Insomma, si può dire concorso esterno, quindi evocando il concorso esterno in associazione mafiosa, un accordo tra politici che fino a prova contraria non sono né condannati né mafiosi né colpevoli né delinquenti, mi sembra forse un tantino forte, se l'avesse scritto qualche altro giornale penso sarebbe arrivata una querela grande così e immagino che io se mi dovessi sentire dire che il mio è un concorso esterno in un'alleanza, una querela forse la farei. Un abbraccio a tutti voi, vi do appuntamento domani, ciao!